Lo sportello del cittadino, decoro urbano, è con Paolo Castronovi che è l'assessore del Comune di Taranto alle società partecipate. Parliamo di raccolta differenziata, siamo qui presso la Chiesa Gesù Divin Lavoratore, l'auditorium, per un incontro con la collettività, con la cittadinanza, con le associazioni Tamburi Differenzia. Il ruolo fondamentale, assessore delle istituzioni, questo binomio, questa sinergia preziosa tra istituzioni e associazioni, perché poi le associazioni svolgono una funzione di filtro, di collante, non sostituiscono certamente il ruolo delle istituzioni ma lo supportano. No, è assolutamente fondamentale questa rete raccolta che stasera qui si riunisce insieme ai cittadini, nell'esempio il modo di interloquire tra le istituzioni, tra l'azienda AMIU, l'amministrazione e questa rete costituita dall'AMIU per sensibilizzare i cittadini, è assolutamente fondamentale ed è stata una bella iniziativa realizzata da Chimambiente che ci dà la possibilità di interloquire costantemente, ma soprattutto raccogliere le informazioni e i suggerimenti che dai cittadini e delle associazioni vengono. È un plauso che va dato alle associazioni che sono sempre presenti quando l'amministrazione chiama o chiama Chimambiente. Per concludere, credo che questa tipologia di incontri ci sarà in vari quartieri. Sì, lo faremo in tutti i quartieri, oggi cominciamo di qui dai tamburi, ma lo faremo anche negli altri quartieri, soprattutto con l'avanzare della raccolta differenziata lo faremo man mano che andremo avanti, anche per spiegarle modalità. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere, come dicevamo, per la questione pandemica, adesso fortunatamente possiamo riprendere, siamo ben lieti di rincontrare i cittadini e di raccogliere a loro sia le critiche che i suggerimenti, ovviamente. Grazie.